in una lettera scritta alla signora ermina gargani in data 27 gennaio del 1918 e raccolta nell'epistolario numero 3 padre pio scrive quanto segue dopo l'amore di nostro signore ti raccomando figliola quello della chiesa sua sposa di questa cara e dolce colomba la quale solo può fare le uova e far nascere i colombini e le colombine allo sposo ringrazia dio cento volte il giorno d'essere figliola della chiesa ad esempio di tanti santi nostri fratelli che ci precedettero nel felice passaggio abbi gran compassione a tutti i pastori predicatori e guidatori di anime e vedi come sono sparsi sopra tutta la faccia della terra perché non vi al mondo provincia dove non ve ne siano molti prega dio per essi a ciò che salvando loro medesimi procurino fruttuosamente la salute delle anime grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima